dolcetto scherzetto oh che bei buttini ve porto subito calcossa cosa ve piace? in famiglia abbiamo il colesterolo alto io sono vegano io ho un'intolleranza ai latticini io sono allargico ai gatti io vorrei un dolcetto senza glutine io per motivi religiosi non mangio carne di maiale e soprattutto che non sia stato riscaldato con combustibili fossili che provocano il riscaldamento globale fermi tutti aspettiamo qua che ho la soluzione giusta per voi altri eccola qua lei è ancora tiepida vegana con pochi grassi senza lattosio e riscaldà naturalmente che gusto strano cos'è? l'è una boassa c'è un pochi grassi so